Bentornati in diretta, Dito la Roma 1, la trasmissione che da ormai diversi anni vi parla prevalentemente di Roma, dei problemi, delle tematiche legate alla capitale, ma che se possibile poi tiene sempre anche gli occhi così aperti e i riflettori accesi anche su altre questioni che riguardano l'Italia, che riguardano, insomma, prima di essere romani, forse dopo, insomma, ognuno può decidere come di essere romani, cioè siamo italiani. Allora, la premessa è che dal 18 al 23 dicembre, intanto in scena al Teatro Ambra alla Garbatella, ecco, uno spettacolo che si chiama La città di plastica nel giardino dei sogni di Silvia Resta e Francesca Zarzana, o Zarzana, adesso chiedo scusa se ho sbagliato la pronuncia, ma in particolare oggi, alle 19, lo spettacolo, poi allo spettacolo, seguirà un incontro, donne in migrazione, la trappola del mare, l'incontro con Giusy Nicolini, sindaca di Lampedusa. Giusy Nicolini è con noi nell'altro studio, la saluto e le do il benvenuto a Roma 1, insomma, a Roma se vuole. Buongiorno. Senta, allora, qua io cerco di evitare, poi sono prolisso, a volte evito le chiacchiere, andiamo diretti, no? Io l'ho detto in apertura, quante volte abbiamo visto nei telegiornali le immagini dei barconi, quelli della disperazione, ci sono stati fatti, insomma, film, spettacoli come questo, però stamattina leggevo delle sue dichiarazioni, evidentemente le abbiamo visti poche volte. Forse, soprattutto, li vediamo in certi periodi dell'anno, in cui tutta l'informazione si butta su questa tragedia, e poi però così si spengono i riflettori. È una premessa giusta? È ciò che la porta oggi a denunciare, insomma, questo silenzio dell'Italia e forse anche dell'Europa, signor Sindaco? Sì, in realtà l'informazione che viene fatta rispetto a questo fenomeno è legata, diciamo, allo sbarco come evento emergenziale. E se ne parla quando non ci sono altre notizie più importanti o più significative. In realtà questo è un fenomeno epocale, una cosa che non è mai finita, che non finisce. Non è finita neppure quando il nostro paese ha inaugurato la politica dei respingimenti in mare, col ministro Maroni. Non è mai finito. E Lampedusa è testimone costante di questi arrivi, che a volte sono di speranza, a volte sono di dolore, perché avvengono anche naufraggi, sempre nell'indifferenza di tutti. Io immagino, insomma, anche un politico come lei, un sindaco, un amministratore, poi dice che in questo periodo si parla solo di politica, ma dal punto di vista delle alleanze, Anze, Berlusconi, Monti, eccetera, poi dice io sto lì in prima linea e invece noi praticamente non facciamo più notizia. Quindi è una frustrazione grande. C'è anche questo, insomma, rispetto all'informazione, oppure lei vorrebbe semplicemente atti concreti, no? O è frustrante anche vedere la macchina dell'informazione che, come lei dice giustamente, va appresso poi a certe... Sì, la frustrazione viene soprattutto dal fatto che siamo un'isola piccola, la più lontana d'Italia, con tantissimi problemi legati proprio all'insularità. E molti dei problemi che abbiamo probabilmente vengono anche dall'essere stati, come dire, oppressi da questa emergenza, da questo fenomeno vissuto e gestito sempre in chiave emergenziale. E viene anche da una considerazione di fondo, cioè che poi queste persone che arrivano in Europa e si fermano a Lampedusa, arrivano attraverso Lampedusa e di cui non si parla, in realtà sono anche la nostra storia. Sono il nostro quotidiano, non solo di Lampedusa, del nostro paese, dell'Europa. Mettere un velo sopra, ignorarlo, non parlarne, non fa scomparire il problema. È vero che lei da quando siede sulla sua poltrona intesa come ruolo, da maggio se non sbaglio, 21 cadaveri ha dovuto accompagnare? Sì, dopo che la Guardia Costiera li recupera, vengono consegnati al sindaco che deve occuparsi della loro sepoltura. È una pagina di grande dolore e per me è veramente insopportabile. Cioè vengono consegnati al sindaco, è veramente un'espressione che fa riflettere, forte, no? È così. Quindi lo strazio per lei è inevitabile, anche volendo, nel senso che non è che si può voltare o delegare ad altri? Sono persone di cui non conosciamo il nome, devi mettere una targa con un numero sulla loro tomba. Sono persone quasi sempre giovani, giovanissime, donne e anche ragazzini, come nell'ultimo naufragio. C'erano due ragazzini, uno di 11 e uno di 13 anni. Pensare che muoiano così, nell'indifferenza totale, 11 tutti insieme, fossero stati di pelle bianca, i tigini avrebbero parlato e come, e invece nessuno ne ha parlato. E la grande sofferenza per me viene da questo, dal sentire noi da soli a Lampedusa, in un'isola così piccola, che però viviamo in prima persona uno dei fenomeni epocali del nostro tempo. Io faccio vedere un attimo un'immagine... Sentire tutto il peso sopra, anche della morte. Faccio vedere immagini di repertorio intanto, questa per esempio è un'agenzia AG, no? Ecco, la sua comunità, intanto ricordiamo in questa meravigliosa isola, che molti avranno conosciuto, grazie a Dio, per le bellezze che offre come turisti. Quante persone vivono abitualmente, insomma, tranne l'estate? A Lampedusa siamo 5.600, poi nel nostro comune appartiene anche la piccola isola di Linosa, che conta 500 abitanti, quindi siamo 6.200 più o meno tutti. Ma d'estate arrivano 130.000, 140.000 persone con l'aereo e con la nave. Si vive sostanzialmente di turismo e di pesca. Sì, Lampedusa è di straordinaria bellezza, perché è proprio un pezzo d'Africa, quindi ci sono i colori del mare, le spiagge bianche, che richiamano molto i paesaggi africani. Però siamo lì, soli, lontani, specialmente d'inverno. Lei ha detto quasi conviviamo, insomma, in pratica con l'odore della morte, con questa suggestione sopra. Come riescono, come reagiscono i cittadini, la sua comunità? Cioè, quanto è difficile farlo? In che modo poi? Cioè, vengono tutti da lei a dire sindaco, si faccia sentire, oppure sono rassegnati? No, allora, c'è una grande risposta di generosità e di umanità nella gente di Lampedusa. Probabilmente perché, intanto, gli sbarchi da noi ci sono ormai da 14-15 anni, sono una cosa normale. Siamo un'isola di approdo, questo lo riteniamo una cosa normale. Dall'altro, in determinati casi, nei casi di naufragio, è come in questo momento, che il centro è in condizioni di sovraffollamento e le persone che sono lì ospitate non stanno bene, non tutti hanno un letto in questo momento. In questi casi ci sentiamo male, io come tutta la mia gente, come tutti i miei cittadini, perché se essere isola di soccorso e di accoglienza è un fatto di orgoglio per noi, sicuramente la qualità dell'accoglienza è una cosa che ci interessa molto, che ci riguarda molto. Da lontano vengono subito dimenticati, magari dopo la notizia dello sbarco. Però in questo momento, in un centro dove ci sono 250 posti, ci sono circa 600 persone, 125 di loro sono minori non accompagnati. La metà sta lì da oltre un mese, senza la certezza di una data per partire, senza una prospettiva. Questo ci dispiace molto, ci dispiace moltissimo. Guardate queste immagini della Guardia Costiera, no? Qua altra cosa che poi, giustamente, se i telegiornali non ne parlano, allora uno lo sa ancora meno, ma molti magari crederanno che gli sbarchi ci sono soltanto d'estate. Arrivano bambini piccoli. Guardate questi neonati, no? Questo è un signore della Guardia Costiera che porta un neonato. Ma siamo al 24 novembre 2012. Esatto. 123 persone soccorse dal barcone della Guardia Costiera. L'ultimo sbarco, quando c'è stato? Una settimana fa sono arrivate 400 persone. 400 persone una settimana fa? Sì. Quindi non c'è tregua da questo punto di vista? No, assolutamente. C'è una pressione fortissima sulle coste del Nord Africa e sono tutti subsahariani. Io non credo, probabilmente perché appunto li vediamo, per noi non sono numeri, ma sono persone. Arrivano donne incinte, bambini. Nell'ultimo sbarco è arrivata anche una donna paraplegica. Arrivano in condizioni veramente disperate. sanno di rischiare la vita facendo questo viaggio. Non è che ci siamo rassegnati, è che comprendiamo che per viaggiare così, per venire così in queste condizioni, vuol dire che sono persone che non hanno altra scelta. Questo pensiamo. È per questo che non ci sentiamo minacciati da loro. Quando io grido la mia preoccupazione o la gente di Lampedusa esprime stanchezza, eccetera, non lo fa nei loro confronti, nei confronti di loro che arrivano, perché sarebbe veramente disumano. Lo facciamo nei confronti delle politiche che sinora... Ecco, voglio arrivare là adesso, chiaramente, perché sennò dobbiamo parlarne di quello che la politica non ha fatto, probabilmente molto più di quello che ha fatto. Però un'altra cosa che volevo dire ai telespettatori, che se vogliono intervenire a me farebbe molto piacere, è chiaro magari li spiazziamo un po' oggi, però due parole sarebbero gradite dai romani di così in generale. Dal 18-23 dicembre lo spettacolo, ma nel foyer del teatro Ambra alla Garbatella c'è anche questa mostra fotografica a cura del Programma Alimentare Mondiale, tutto sulla sua testa. Una collezione di fotografie che gli operatori umanitari del programma, appunto, hanno scattato in vari paesi del sud. Nell'incontro invece di oggi, alle 19, lo ripeto, sempre all'Ambra alla Garbatella, ci sarà anche Laura Boldrini, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Poi l'associazione Migrare, giornalisti, eccetera. Non vedo politici, no? Allora, andiamo un attimo, politici intendo, rappresentanti del governo tecnico o meno tecnico, eccetera. Che cosa lei oggi, insomma, si sente di dire onestamente così al governo, allo Stato, insomma a chi, non lo so, lei pensa che non sta facendo in questo momento la sua parte? Ma io devo dire che nei confronti del ministro Cancellieri devo riconoscere che c'è stato sicuramente un cambio di politica e di uno sguardo diverso anche verso Lampedusa. Lampedusa negli ultimi anni è stata utilizzata come un campo profughi a cielo aperto. Il 2011 è stata una pagina molto dolorosa per Lampedusa e per i tunisini che sono sbarcati lì e sono stati tenuti al freddo per due mesi in decine di migliaia. Sicuramente qualcosa è cambiato. Non mi meraviglia il fatto che la politica in questo momento di grande crisi taccia su questo tema, che è un tema oltretutto caldo, che è stato strumentalizzato da molti, che è stato usato dalla Lega, per esempio, in maniera propagandistica. La stessa Lampedusa è stata sacrificata sull'altare della propaganda politica. Io, in questa mia nuova veste di sindaco, sono molto impegnata a fare in modo invece che se ne parli. Che se ne parli perché uno, il loro destino, il destino di chi viaggia, ci riguarda fortemente. Ormai loro sono la nostra storia e due, i luoghi attraversati da loro, in questo caso Lampedusa, come porta d'Europa, sono luoghi il cui destino è legato fortemente alle politiche che si mettono in campo. Se Lampedusa viene utilizzata come isola di frontiera, dove trattenerli fino al rimpatrio, come ha fatto il ministro Maroni dal 2009 al 2011, e se invece diventa un luogo di transito, per quello che la geografia peraltro stabilisce. Lampedusa è un ponte tra l'Africa e l'Europa. È ovvio che sono due modi di guardare a un'isola che incideranno in maniera diversa sul futuro nostro, della mia comunità, un'isola non di frontiera, ma un pezzo importante del patrimonio ambientale di questo paese che vive di turismo e che vuole stare al centro del Mediterraneo e non essere una prigione. Lei viene da Lega Ambiente, se non sbaglio, e quando fu eletta, insomma, fu definita, questo termine per le donne, è un tosto, sindaco tosta, molto tosta, insomma, come se fosse così una cosa curiosa. Viene però da un mondo ambientalista, quindi tra l'altro, se non sbaglio, come primi provvedimenti, ha rotto anche, ha subito tolto gli incarichi, c'erano dei consulenti indagati per tangenti nella sua amministrazione e nell'ufficio tecnico. Chi è oggi con lei, vorrei capire un momento, cioè tutti, cioè lei è riuscita veramente a marcare anche una differenza non solo sul tema degli immigrati, ma dico anche sull'amministrazione, no, di una delle città siciliane, insomma, è cambiato cosa in questi mesi? Ah, certamente appunto è cambiato il modo di guardare al territorio, ho mandato il capo dell'ufficio tecnico indagato, ma abbiamo anche proceduto a bloccare, a revocare autorizzazioni urbanistiche illegittime, c'era un trend di forte speculazione sul territorio e questo sicuramente ormai è bloccato, gli interventi che vogliamo fare sono invece volti alla tutela e valorizzazione del patrimonio costiero, alla manutenzione e riqualificazione del centro urbano che in questi anni è stato lasciato totalmente all'abbandono, siamo molto impegnati ad avviare la raccolta differenziata, assolutamente assente, a mettere in moto processi di diventare autonomi nell'approvvigionamento idrico, perché in questo momento l'acqua viene portata con la nave cisterna, insomma è una grande sfida amministrare Lampedusa in questo momento, perché bisogna da zero... Fare molto da zero anche? Sì, sì. Rispetto all'Europa andiamo verso le conclusioni, no? Ecco, lei si è appellata, mi sembra più volte anche all'Europa, perché l'Europa non sente suo questo tema o comunque lo sente magari soltanto in talune circostanze? Di chi è la responsabilità? Degli altri paesi o anche di chi magari rappresenta l'Italia, secondo lei, male? Beh, no, è un problema anche degli altri paesi, c'è un'Europa che si è chiusa, che si è chiusa, che ha schierato lì l'operazione Frontex, queste barche che guardano il Mediterraneo, che si difende. Si difende e basta, insomma. Che si difende e basta, che non mette in campo politiche che innanzitutto prevengano questi viaggi, che sono viaggi veramente, insomma, tanto sono traffici criminali e muore veramente tanta gente, i numeri sono i numeri di una guerra e viene ignorata, questa è una grande verità che io che ho detto, quella che ho detto, nessuno può... Sono numeri, no? Lei diceva sono numeri, non sono persone, cioè che vengono consegnati a lei come dei pacchi e poi... Sì, e quelli che non vengono recuperati, cioè i morti in questo tratto di mare sono veramente tantissimi e fare finta che questo non avvenga è veramente... C'è qualcuno, sindaco, questa è una mia curiosità, che invece negli anni poi è rimasto a Lampedusa, che oltre all'accoglienza che la straordinaria cittadinanza ha sempre manifestato, la generosità, ci fu quella proposta, se non sbaglio, del premio Nobel per l'isola, no? Sì, insieme alla promessa del casino e del campo da golf. Tutto insieme nel pacchetto. Tutto insieme. Vabbè, però diciamo, quella del Nobel, non so, non era male, nel senso che sarebbe stato bello, però vabbè, lasciamo perdere quello. Dico, c'è qualcuno che è rimasto addirittura lì, no? Di questi giovanissimi. Mai, mai nessuno di questi. Qualcuno che torna a fare visita a Lampedusa, a baciare la terra dove si rinasce, loro dicono io sono rinato a Lampedusa. Qualcuno che è tornato, sì, per visitarla, ma no, nessuno si ferma. Ecco, non l'abbiamo detto, insomma, che parliamo di... Vabbè, non l'abbiamo detto, insomma, va da sé, no? Di persone rifugiati che fuggono dalla morte, da tragedie, da guerre. Sì, arrivano somali, etiopi, eritrei, ganesi, arrivano dal Mali, dal Darfur, arrivano da questi luoghi assolutamente drammatici. Ecco, l'ultima cosa davvero, purtroppo poi quando ci sono momenti particolarmente invece difficili, di crisi, no? Come questo, noi lo vediamo nel nostro osservatorio romano, è ancora più difficile parlare di solidarietà e parlare, no? Degli altri, di chi sta ancora peggio. Perché le persone, molte persone, insomma, diventano anche più ciniche volendo. Lei oggi che cosa dirà, o comunque che cosa può dire, no? Come quasi messaggio conclusivo alle coscienze proprio degli italiani che la seguono, come è stata definita, cioè il sindaco dell'umanità. Perché mi pare che torna sempre poi, giustamente, ad insistere su questo, cioè in modo anche poco forse popolare, no? Perché sarebbe più... Farebbe più notizia magari che lei la mettesse sempre sul piano politico, su altro, no? Invece, come si fa a leva sulle coscienze in questo momento? Non perché siamo vicini a Natale, dobbiamo essere più buoni, ma in modo da ricordarcelo anche dopo. Ma guardi, io credo che proprio anche il momento di crisi che il nostro paese sta vivendo, di nuove povertà che noi stiamo conoscendo, deve farci aprire gli occhi verso il sud del mondo. E probabilmente guardare al Mediterraneo in modo diverso e aprirsi al Mediterraneo, piuttosto che costruire frontiere, può essere anche un modo per dare risposta alla crisi. Il Mediterraneo può essere fonte di grande ricchezza, di scambi, di cooperazione, può essere un modo per aiutarli a restare nel loro paese, come sempre si dice, però senza dare seguito a nessuna politica concreta. non mi sento una voce fuori dal coro. Credo che... Ecco, poi noi non siamo assolutamente strani a questo loro viaggio, insomma, siamo il tipo di mondo che abbiamo costruito, di società che abbiamo costruito, di ricchezza che abbiamo costruito, ha creato queste povertà e queste disperazioni. Quindi siamo responsabili, dobbiamo sentirci responsabili. Resterà a Roma per qualche giorno? Solo oggi, poi domani ritorno a Lampedusa. Quindi non c'è nulla neanche che riuscirà a fare, magari vorrei vedere tornare in un posto di Roma, insomma, è talmente veloce, no? Deve tornare alla città che l'aspetta, alla sua città, insomma, a braccia aperta. Sì, sì. Grazie, sindaco. Sindaco o sindaca? Perché sindaca è bello, però non mi veniva di utilizzarlo. Mi chiamano in tutti e due i modi e va bene lo stesso. Sarei una sindaca, comunque. Ok. Io ringrazio l'ufficio... Beh, no. Ringrazio anche l'ufficio stampa che ci ha dato questa opportunità. La saluto. Grazie a voi. Ecco, da oggi in poi, almeno qui, insomma, avremo senz'altro un pensiero in più rispetto a Lampedusa. Grazie, ne abbiamo tanto bisogno. A lei. Chiudiamo, ci vediamo domani. Se volete alle 14 con altri argomenti, addietro a Roma 1 e poi domani sera, ve l'ho già anticipato, uno speciale di Foro Romano, invece sul decoro, la legalità e i cartelloni abusivi. Grazie a tutti, arrivederci.